Il mio venerdì, sono le 5 del mattino, faccio un'occorrenza alle borsi di Gucci, devo ripetere tutte le materie in cui oggi mi interrogano. Questo è uno dei testi su cui sarò interrogata oggi, prendo il polato e se non muoio, alle 7 decido di prepararmi. Ergi ancora dorme, è beato lui, io mi metto un olio riparatore perché sennò i capelli si distruggono totalmente e passo anche la piastra in onore della mia prof perché mi faccio bella per loro. Dopo che mi passo la piastra, decido di legare i capelli che fa più professionale. Metto la crema, do il buongiorno a Sparky, giustamente c'è anche lui, metto il correttore e poi metto un po' di colore e mascara, scrub per le labbra che fa sempre bene, mi lavo i denti e prendo la penna del giorno, verde e speranza perché ne abbiamo bisogno. Stiamo partendo per scuola, ho due interrogazioni alle prime ore, sto morendo di ansia, parte 2. Il mio venerdì parte 2. Sto andando in classe per le interrogazioni di latino e vorrei non doverlo fare in questo momento, sinceramente. Alla fine ho preso 8 in latino e 6 e mezzo in anatomia. Mi ritengo soddisfatta, dai. A squadra è successo un casino, ho avuto un calo di pressione, ho rischiato lo svenimento e alla fine per riprendermi mi c'è voluta la bidella che mi ha obbligato a sedermi, mi ha dato lo zucchero e poi ho fatto amicizia con la bidella e mi volevo obbligare ad andare a casa quando mancava mezz'ora a tornare a casa. Alla fine ho vinto io. Casa dolce casa, si mangia, mi è arrivato un pacco, bomba. Niente io amo questo modello, lo comprerò per il resto della mia vita. Cookie mama, il pesce di mia nonna che ha regalato un modello è morto, ora ne ha due, parte 3. Il mio venerdì parte 3. Oggi si mangiano le cottorezze impanate. Bimba, bimba, ciao, saluta tutti, ciao. Sparky, Sparky corri, 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 corri. Dov'è? Prendilo, prendilo. Niente, non ha preso. Bene, carissimo, la mia nuova terapia. Mi sono risvegliata. Sono le 4 e inizio a studiare ora. Avrei curioso dormire almeno altre due ore. Mi sono fatta una maschera a pilozzo e per i punti neri mi sono rimasti tutti i pezzettini. Studierò due ore e poi vado in Stardust. Acqua, astuccio, astuccio. Computer, iniziamo. Sono le 6 e 10, ho finito di studiare e ora mi preparo perché stasera ho un altro appuntamento. Pronta? Andiamo in Stardust. Adesso facciamo un po' di domande che mi scrivete nei commenti ai componenti della Stardust. Parte 4. Il mio venerdì parte 5. Sto entrando. Tornato dalla Stardust mi sono presa lui. Ciao. Ciao. Ciao amore. Questi ci sono i giochini per me, l'ho scelto apposto ovviamente. Bello. Niente, entriamo perché abbiamo come. Lei si è da stasera, vero? No. No. Lei si è da stasera, vero? 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 Grazie a tutti.